Kauai è l'isola geologicamente più antica delle Hawaii. Ha origini vulcaniche ed un terreno generalmente montuoso. E' la quarta isola più grande dell'arcipelago hawaiano. Si estende per 1456 chilometri quadrati. Di selvaggia bellezza queste montagne aspre ed inospitali. Siamo appena sopra il Tropico del Cancro ed il clima favorisce questa lussureggiante vegetazione. Nel verde strisce bianche di acqua, piccole cascate, fiume a valle e foresta tropicale. Siamo in pieno oceano Pacifico dove sono presenti scogli e spiagge di sabbia bianca. A ridosso una varietà di paesaggi naturali di unica e straordinaria bellezza. Sorvoliamo la costa settentrionale dell'isola. piccole cascate in un ambiente particolarmente rigoglioso. Colorato da piante in pericolo di estinzione e meravigliosi uccelli. Il corso d'acqua è alimentato da questa cascata a monte. non mancano zone coltivate con piante autoctone. con un'area di 1456 chilometri quadrati è la quarta isola più grande dell'arcipelago hawaiano. I 70.000 abitanti circa vivono soprattutto di turismo. nel 1778 il capitano James Cook giunse a Waimea Bay. Il primo europeo ad aver raggiunto Hawaii quindi è del nome di isole Sandwich. In onore del suo armatore, il conte di Sandwich. il cinquantesimo degli Stati Uniti d'America, le isole hawaiane sono tra le terre emerse più isolate del mondo. Distano infatti quasi 4000 chilometri dalla costa americana della California. un luogo dove il sogno si confonde con la realtà nell'ora di questi lunghi e stupendi tramonti.